Un confronto aperto a tutti al di là delle bandiere politiche per difendere la sanità del VCO, lo chiede il Partito Democratico dopo l'ultima riunione del Tavolo Sanità della coalizione di centro-sinistra di Verbagna, presieduto da Michela De Nicola. La proposta che il Tavolo intende fare è quella di trovare una strategia di intenti volta a salvare diritto costituzionale inviolabili alla salute, si legge nella nota. Chiediamo pertanto al sindaco Albertella, al sindaco Pizzi, al sindaco Berio, a tutti i sindaci della provincia, a tutte le forze politiche, di trovare una modalità istituzionale di confronto con le componenti coinvolte la cittadinanza. Chiediamo inoltre che sia organizzato un incontro con gli organi responsabili, assessore regionale, direzione generale dell'ASL, sindacati, ordine dei medici, per affrontare concretamente le criticità della sanità pubblica nel VCO. Prosegue il comunicato. Il Partito Democratico, sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra, intende procedere con la richiesta da parte del presidente Mondino di una commissione sanità e servizi al cittadino, dove confrontarsi responsabilmente sulle strategie da mettere in campo per interloquire con la direzione generale. È necessario avere risposte che garantiscano il rispetto dei servizi presenti oggi, senza che nulla venga tolto o spostato, penalizzando tutto il territorio. Abbiamo necessità di capire i sindaci prima di tutto quando partiranno i cantieri delle case di comunità. Siamo sicuri che attraverso un lavoro di sinergia senza bandiere partitiche, questo territorio potrà salvare il diritto alla sanità per tutti i suoi cittadini.